Lavoratori di ceramica Dolomite in sciopero per quattro ore a fine turno nella giornata di venerdì. L'azienda è rinata due anni fa dalle ceneri dell'Ideal Standard grazie a una cordata veneta che comprende Banca Finint, Delphin, Luigi Rossi, Luciani e Zafin. Mancherebbero però 5 milioni di euro per garantire una continuità alle attività dello stabilimento, ma soprattutto ai 350 operai che lavorano all'interno del sito di Tricchiana. I rappresentanti di CGL Cisle Will si riservano di commentare i risultati della giornata solo dopo la riunione del comitato istituzionale che dovrebbe essere organizzata a breve. I sindacati registrano l'indisponibilità dell'azienda a erogare l'unatantum di 710 euro con lo stipendio di ottobre, ma non solo. A settembre è iniziata la cassa integrazione mentre monta la preoccupazione in merito a tredicesima e stipendio di dicembre. Sul salvataggio della realtà industriale trichianese e sui dubbi per il suo futuro interviene il sindaco di Borgo Valbelluna Stefano Cesa. E siamo sempre stati tutti quanti consapevoli che questa operazione da sola e nell'immediato non poteva risolvere tutte quelle che erano le criticità organizzative, commerciali e gestionali che l'azienda si trascinava purtroppo da lungo tempo. Va anche detto che la ripartenza del sito produttivo di Tricchiana è avvenuta in un momento storico particolare, in un momento al rialzo sia per le materie prime che per l'energia. Tutti gli sforzi finanziari e soprattutto gli investimenti in ricerca e sviluppo di nuovi prodotti che sono stati fatti in questi due anni alla proprietà devono essere interpretati da tutti come conferma dell'impegno della stessa proprietà nel proseguo di questo percorso di rilancio della storica azienda. Posso assicurare che tutte le parti coinvolti stanno profondendo il massimo impegno per tutelare soprattutto i lavoratori, dare forma concreta al rilancio dell'azienda, riacquistare una posizione di riferimento nel mercato e soprattutto preservare l'asse strategico rappresentato dalla lavorazione della ceramica per il nostro territorio.